Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Modellini in Scala, Tokyo Disney Resort. Was launched at the end of the year 2010? Issa Disney Resort Cruiser Tomica 2011 Special Edition Specification? Tokyo Disney Resort 2011 Special Edition? Disney Resort Cruiser Tomica? Package Sise? About 8 cm x 4 cm x 3 cm. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.